Vediamo ora come usare Spreaker Studio per Android cellulare. Cercate nel Play Store Spreaker Studio, crea il tuo podcast e andate in Apri. Quindi ti chiede di consentire all'app Spreaker Studio di registrare audio mentre usi l'app. Quindi ti dice che la playlist è vuota, potresti aggiungere un brano dal tuo computer. Ci sono presenti degli effetti da aggiungere, ad esempio questo. Si dice di collegare le cuffie per sentire. Va bene, questi sono gli effetti. E andiamo direttamente a registrare. Quindi, allora vado in REC, o la diretta, oppure registra. Scelgo registra. Ecco, questa ha inizio la registrazione. Adesso cliccando sul tasto registra. Sto registrando questo tutorial per vedere quali sono le potenzialità dell'app Spreaker Studio da PC. posso, quindi, pausare riclicando di nuovo su registra. Riclicco di nuovo. Eccomi ancora qui. Finisco la registrazione cliccando sul quadratino nero nel cerchio bianco. e mi dice registrazione completata. Ottimo lavoro. Posso risentire la registrazione. Registra. Ecco, questa ha inizio la registrazione. Adesso cliccando sul tasto di nuovo, su registra. Riclicando. Ecco, condividi. Posso salvare come bozza. Salva come bozza. Salviamo come bozza. E andiamo, questo nuovo episodio, lo andiamo a rinominare. Lo chiamiamo Prova Android e andiamo Potrei anche modificare con modifica in condividi e lo condivido nelle radio cronache in diretta. Posso caricare un'immagine di copertina La caricherò da Ma sì, andiamo indietro. La carico dal file Vediamo Dalle cartelle del mio computer Carichiamo così una qualsiasi Potrei anche descrivere l'episodio Questa Questa È Una prova Prova Ok Quindi vado a caricare Togliato, prova Carico l'immagine della copertina Ecco Ok E quindi vado Con Basta Quindi se clicco Avete visto Sulla Ecco Se clicco Su Poi Le tre barrete Il profilo Le bozze I podcast Le statistiche La musica Royalty Free E le impostazioni Posso andare A Vedere Mi chiedo sempre Di fare l'upgrade Vado in In Podcast E Vedete che ho Le mie radiocronache Dirette Quindi mi riporta Il sito Nelle Radiocronache Indirette Trovo la Prova Android E questa Ecco Questa Ha inizio La registrazione Ecco Questo Potrei poi Volere Condividere Questo Episodio Che ho messo In Radiocronache Indirette Nella Quindi Nella podcast Che avevo creato Sul sito Posso condividere In whatsapp Eccetera Eccetera E In facebook E così via Vado indietro E Quindi Abbiamo visto Che è molto comodo Anche da usarsi Da Smartphone Naturalmente Posso poi Andare Nelle impostazioni A Vedere L'account L'impostazione Dell'account L'account Eccetera Eccetera